Roberto e Eva Cavalli sono in gran forma. La loro collezione in passerella richiama sempre il bel mondo. E tra i tanti vippissimi non poteva mancare Kelly Rowland. La bellissima trentenne statunitense è arrivata a Milano. Folla di media per poterla immortalare. Kelly ha un curriculum infinito. Cantautrice, ballerina, modella, attrice, conduttrice tv e filantropa. E' uno dei membri fondatori del gruppo delle Destiny's Child. Ha vinto 5 Grammy Award, 3 con le Destiny's Child e 2 da solista, oltre ad altri numerosi premi. E alla moda proprio non riesce a rinunciare, soprattutto a quella firmata da Roberto Cavalli. Grazie a tutti.